Ah, com'era bello One Piece una volta! Era diverso One Piece una volta, era molto più interessante, c'erano tante cose, era molto più avventuroso, era molto più piratesco. E avete ragione, avete ragione. One Piece è evoluto ed è mutato un sacco nel corso degli anni, ormai sono quasi 30 anni che prosegue, quindi come tutte le cose, giustamente, cresce, muta, migliora, peggiora, può capitare anche, no? Ovviamente. Perché il prodotto One Piece è iniziato come un'avventura incentrata sulla ricerca di un tesoro, quasi come se fosse più una ricerca di se stessi che di un tesoro, perché inizialmente della concretezza del tesoro non c'è prova. Nessuno ti dice fino a metà manga che il One Piece esiste, te lo dirà barbabianca, per l'appunto, durante la guerra di Marineford. Solo che inizialmente c'è una progressiva introduzione a temi complessi, come giustizia, libertà, il significato di potere. Tutte queste cose vengono trattate ampiamente e anche in maniera molto oculata nei primi 12 volumi, che, come vi dico sempre, secondo me racchiudono tutti i successivi 100 volumi di One Piece. Un concentrato di tematiche, solo in maniera molto più scansonata, più libera, più semplice, più banale, più infantile, ma nel senso buono del termine. Tutti i temi sono quelli che caratterizzeranno veramente l'intera opera di Eiichiroda, il sogno, la libertà, la famiglia, il tesoro, l'amicizia, lo scegliersi quotidianamente tra persone che sono completamente diverse ma che condividono un obiettivo. Tutte queste cose permeranno per sempre il manga, fino alla fine. Solo che poi c'è evidentemente un mutamento all'interno della storia e questo lo si può evvincere dal volume 13 in poi, perché qua vengono introdotti, cominciano ad essere introdotti anche dei temi che vanno a toccare diverse sfere che esulano da quello che abbiamo visto finora. La religione e la scienza sono le due parti importanti che Oda comincerà a centellinare, a centellinare e poi aggiungere, 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 finché arriviamo ai Ghed, questa ultima saga dove religione e scienza sono veramente un mischione incredibile, perché dove inizia la scienza finisce la religione, dove finisce la scienza inizia la religione e così via, proprio un continuo susseguirsi di queste tematiche. Cominciamo a vedere questo genere di tematica con i giganti, secondo me, durante la saga di Little Garden, dove cominciano ad essere introdotte queste tematiche norrene, il dio di Elbaf, il dio di Elbaf, il dio di Elbaf, il dio di Elbaf. Oggi sappiamo quasi con certezza che questo dio di Elbaf non era nient'altro che il dio Nica, il dio del sole. Quindi stiamo veramente tirando fuori dal cappello tante cose interessanti che si ricollegano al nostro passato di lettori di One Piece. E c'erano tante riflessioni sulla fede, sul culto, sull'influenza di queste divinità sui personaggi che incontriamo. Il secondo passo importante lo troviamo durante la saga di Arabasta, dove Crocodile, parlandoci delle armi ancestrali, paragona il nome di questa arma, Pluton, al nome di un dio. E nella saga successiva, che è quella di Skypiea, ovviamente il ruolo della religione diventa fondamentale, con la figura del dio Enel che incarna per l'appunto la divinità capo di questo stato che vive nel cielo, che sta sulle nuvole. Solo che al di là dell'essersi appioppato il titolo di dio senza nemmeno un motivo reale, sarà proprio Enel a dirci che in realtà le divinità esistevano davvero un tempo e provenivano da questa terra fatata, questo ver fatato, che lui identifica con la luna. Scopriremo poi che, grazie alla sua mini avventura, esistono davvero, esistevano davvero queste divinità lunari, che un tempo erano padrone della luna, ma che un giorno decisero di scendere sulla terra. E quindi il tema religioso, in qualche modo, in questo manga di pirati, viene introdotto anche con oculatezza, secondo me, perché comunque restiamo sempre nell'ambito del mito. Non ci viene introdotto, non so, la religione cristiana, la religione ebraica, la religione musulmana, la religione... No, è sempre molto legata al mito, benché sporadicamente, soprattutto anche con Wano, ci vengano dati degli int sul buddismo, anche e soprattutto con gli attacchi di Kaido, ma anche con attacchi di Zoro, però sono proprio degli accenni, delle citazioni culturali, nulla di più, nulla di meno. Dopo aver superato lo scaglione, lo scoglio della religione, questa introduzione della religione all'interno del mondo, questi dei creatori, questi dei che provengono dallo spazio, spazio. Ecco che Oda introduce il secondo tema, che finora, anche qua, era molto, molto, molto accennato, giusto, giusto con la farmaceutica, con ciò perché creava le Rumble Ball, quindi era proprio un accenno molto veloce, ma la farmaceutica fa parte della storia del mondo, quindi non siamo nemmeno in qualcosa di distante dal mondo della pirateria. La scienza, perché, oltre al fatto di Pluton, che è una super corazzata, ma qua siamo nel campo dell'ingegneria, proprio con la fine di Water 7 ci viene introdotto il dottor Vegapunk, con Kobe che comincia a raccontarci un po' di questo professore, che fa cose, che è capace di fare questo, che è capace di fare quello, che fa sperimentazione, che ha agevolato le navi da marina grazie alla gamatolite marina, bla 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 bla, e quindi, oltre a questo, ci viene introdotto anche, nella saga successiva di Tiller Bark, che è il fatto che Vegapunk, per l'appunto, ha modificato geneticamente e anche meccanicamente il buon Bartolomeo Kuma, orso, il nostro orso preferito, che è diventato un'arma umana della marina e del governo mondiale. L'etica, no? Etica, scienza, religione. Cominciamo a toccare temi che con un manga di pirati sembrano avere ben poco a che fare. Volendo poi introdurre già ora i discorsi della bioingegneria, della genetica, fatti con il Germa 66, ma così come il conflitto tra natura e scienza con le creazioni di Caesar Clown e il loro impatto ambientale e sociale, ecco, che la scienza veramente diventa permeante, diventa importante per questo manga. dove il conflitto tra etica religiosa, etica scientifica continua a farsi sentire, continua a farsi sentire. E quindi continuiamo a allontanarci, per l'appunto, da quella visione semplicistica del manga di pirati, dove bisogna andare in giro a cercare il tesoro. Sì, c'è un tesoro, ci sarà sempre un tesoro, ci saranno sempre dei pirati che vanno a cercare il tesoro, ma continuano ad entrare più profondamente in questo mondo dove ci sono anche altre cose che permeano il tessuto sociale. E infatti One Piece, da manga semplice quale era inizialmente, comunque con le tematiche ben evidenti, ecco che la visione di Oda sull'ingiustizia sociale e politica diventa sempre più evidente, soprattutto grazie al governo mondiale e ai nobili mondiali. Già dalle Sabaudi, che è il passo successivo a Tiller Bark, con l'introduzione appunto di Orso, questo legame scienza e trasformazione del corpo, abbiamo davanti le figure politiche più importanti del mondo di One Piece, che si identificano come dei e che di fatto possono fare tutto quello che vogliono. E con tutto quello che vogliono significa tutto quello che vogliono. Quindi dal comprare qualsiasi persona con i soldi che loro hanno apparentemente infiniti, al fatto che dicano tu da oggi in poi sei mia moglie e diventi sua moglie, non puoi dire nulla al fatto di morire se dici di no. Quindi abbiamo un'introduzione molto più forte delle diverse interpretazioni di giustizia con le loro manifestazioni. Finora c'era la giustizia dei pirati contro la giustizia della marina, quindi comunque un confronto tra criminali e polizia, con anche diversi punti di vista. Non per forza un criminale è un criminale davvero, come non per forza un poliziotto, un marine è buono, anzi ci sono molti marine più cattivi rispetto a quelli buoni nella storia di One Piece. E quindi le diverse interpretazioni di giustizia con le loro manifestazioni sono sempre evidenti, però qua siamo in un passo in più con l'ingiustizia sociale e politica dei draghi celesti nei confronti della popolazione. E quindi Oda comincia davvero a criticare, criticare molto fortemente la società e lo fa attraverso il suo fumetto di pirati, con Rufi che è sempre un pirata e va a cercare il tesoro, ma il mondo che lo circonda comincia ad essere molto politicizzato. E questo essere politicizzato, questo essere molto legato all'ingiustizia sociale, lo vediamo maggiormente nella saga degli uomini pesce, dove il razzismo fa da padrone in questa saga. È una saga che critica aspramente il modo di differenziare le popolazioni, le genti in razze, con tutto il flashback di Otoime, Fisher Tiger, Fisher Tiger con la sua scelta infine di comunque cedere al razzismo, nonostante lui abbia fatto tutta la sua vita contro il razzismo. Come se è comunque qualcosa che è talmente radicato in te che è difficile in determinati punti della propria vita non cedere a quell'interpretazione che hai nella testa. E Oda è molto fine in questo. E ovviamente il manga cambia, e ovviamente il manga se letto senza una importante lente di ingrandimento, ti sembra che sia qualcosa di diverso da ciò che era inizio. Ma in realtà non è così. Perché come vi ho detto, i primi dodici volumi sono questo, in maniera semplice ma molto compressa. Avremo personaggi come i due flamingo e i loro punti di vista sulla guerra, sul nuovo ordine, su ciò che è giusto e sbagliato, su giustizia e ingiustizia. Ci sono personaggi che si sacrificano per i propri doveri morali e le proprie scelte. Basta vedere un Sanji che sceglie di salvare la propria ciurma sacrificandosi per una famiglia che non ha mai amato, ad esempio. Oppure è interessante come Oda usi influenze culturali esterne. Basti vedere veramente il paese di Wano che è un tripudio al Giappone per criticare proprio quelle influenze culturali. Perché sì, Wano veramente è una festa, un gaudio per chi avva il Giappone, per chi vuole vedere citazioni, spunti di riflessione sulla cultura giapponese, usanze, costumi, musiche. Eppure c'è quella parte, molto molto piccola ma molto bella, dove Usopp critica aspramente il modo di vivere dei giapponesi. Ed è un giapponese, l'autore, che tramite il suo personaggio più umano, quale è Usopp, critica la società di cui lui fa parte. Sono cose molto belle da leggere in un manga di pirati, dove poi l'obiettivo è andare a prendersi un tesoro. Perché i personaggi di One Piece, almeno la ciurma di Cappello di Paglia, non si è mai snaturata in questo. Se noi guardiamo la ciurma, loro sono sempre all'avventura, alla ricerca del tesoro. E ovviamente si interfacciano costantemente con temi come giustizia, libertà, ma perché questo funzionava così anche nella società pirata di tanti anni fa. Cioè, ognuno, oggigiorno, uscendo di casa, ma anche aprendo internet, si interfaccia con giustizia, libertà, potere. Cioè, questa è la normalità. Così come ci interfacciamo con religione, come ci interfacciamo con la scienza, così come ci interfacciamo con la critica sociale, le ingiustizie, la filosofia, le moralità ambigue, le interpretazioni di giustizia e loro manifestazioni. Quindi, quando dite One Piece è cambiato, ovvio che è cambiato. One Piece è cresciuto, è migliorato, è peggiorato, poi su quello si può disquisire. Ma il fatto che fosse nato come un'avventura di pirati alla ricerca di questo fantomatico tesoro e nel frattempo il mondo attorno a loro si è ampliato, non significa che non sia sempre un'avventura di pirati alla ricerca di un tesoro. Perché la vita è anche questo. Cioè, noi viviamo la nostra vita, nasciamo, cresciamo, facciamo, abbiamo un obiettivo, un sogno, cerchiamo di raggiungerlo e attorno a noi comunque il mondo c'è, esiste e continua a bombardarci con tutte le sue influenze negative e positive che sono. Quindi, veramente, la ricerca del One Piece può essere vista in due modi, secondo me, all'interno del manga. La prima, chiaramente, quella letterale, stiamo andando a cercare un tesoro, cerchiamo un tesoro e andiamo a prendercelo. Benissimo, ci sarà, ci sarà, ci sarà. E poi c'è la lettura come metafora, nel senso, cercare un tesoro, andare all'avventura, fare il pirata in un mondo politico, un mondo dove tutto, qualsiasi cosa viene detta, fatta, è costantemente sotto la lente di ingrandimento del mondo stesso, è un viaggio da pirati, oggigiorno. E quindi, sì, il One Piece sarà qualcosa di materiale, però, ci può essere qualcosa di immateriale in tutto ciò. Cioè, possiamo leggercelo noi, da lettori, qualcosa di immateriale dietro. Cioè, la ricerca del One Piece porta a una scoperta personale, alla crescita dei personaggi, ma anche a una scoperta di ciò che il mondo è attorno a noi. Quindi, secondo me, il mutamento, la crescita di One Piece e la direzione in cui sta andando è giusta e corretta. Perché non si è mai perso il significato di fondo di avventura per cercare un tesoro. Tutto ciò che hanno fatto è un'avventura per andare a cercare un tesoro. Tutta la loro crescita è un'avventura per andare a cercare un tesoro. Ma ovviamente non puoi ignorare ciò che sta attorno a te. Perché il mondo va nel modo in cui devi andare e continua a influenzare la tua avventura per andare a prendere un tesoro. E quindi, giustamente, scienza, religione, etica, politica e tutte le altre cose che appartengono al nostro mondo e anche a quello di One Piece giustamente continuano a interferire con questa avventura per andare a prendere il tesoro. Quindi, ecco, secondo me è un consiglio, poi ovviamente potete fare come vi pare e piace e prendere il manga e leggere come vi pare e piace. Se riusciste a interfacciarvi con questa visione secondo me potreste godervi l'intera opera con un cuore più leggero. Perché io, ripeto, capisco benissimo le critiche, tra virgolette, quando si dice eh sì, una volta era più bello, una volta era migliore, una volta era diverso. Certo che era diverso. Quando tu sei un bambino e ti interfacci nel mondo non hai idea di quello che ti sta attorno. Il tuo mondo è la tua casa, la tua mamma, il tuo papà, se sei fortunato ad averli entrambi, i tuoi genitori, visto che bisogna essere anche inclusivi, ci sono tanti tipi di famiglie. Poi, una volta che diventi un po' più grande vai a scuola e a scuola cominci a capire pochino come funziona il mondo. Ci sono un po' di questioni anche di bullismo, i professori un po' frustrati che magari ti danno anche fastidio, i primi amici, i primi amori, i primi in amicizie, poi diventi più grande, le medie, le superiori, l'università, il mondo del lavoro. Cioè, questo crescere, questo crescere è quello che succede anche al manga di Eiichiroda. Fusha, Shellstown, Orange, Sheerop, Baratì, Arlon Park, Rabast, Skypiea, Water7en, bla 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 bla. Cioè, adesso che siamo arrivati a GED, dove c'è il cervellone di Vegapunk gigantesco che racchiude, no, i segreti di tutto il mondo, capite che, metaforicamente parlando, siamo arrivati anche noi al punto in cui tutto ciò che circonda One Piece fa parte poi della narrazione e noi siamo sempre quel bambino pirata che è partito un po' all'avventura, sì, allora vado a scuola e oggi invece ti trovi davanti a un mondo enorme, ingestibile, però bisogna sempre ricordare il sogno, l'avventura e quindi, secondo me, il fatto che One Piece sia ciò che è oggi non significa che non è più ciò che era un tempo. Ciò che è un tempo è lì, è sempre lì, solo che è circondato da tante altre cose che ovviamente hanno il loro peso, ma sta a noi vedere ciò che è inizialmente e che rimane sempre in quest'opera meravigliosa. Detto ciò io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo mio pensiero, se secondo voi ha senso, se è una sciocchezza, alla fine è il mio punto di vista, ovviamente, io non dico che sia così, è così per me, io ci vedo questo, poi magari voi non siete d'accordo, giustamente, potete scrivermelo sempre con i modi e i termini giusti qui sotto nei commenti. Vi invito a iscrivervi se non siete ancora iscritti, a attivare la campanella se volete anche ricevere le notifiche quando escono live, video e quant'altro, lasciate un like, a voi non costa nulla, a me aiuta a farmi trovare da gente nuova, detto ciò io vi saluto, fate bravi e divertitevi. Ciao! Ciao!